Agosto sarà un mese di grande fortuna per questi segni zodiacali, che finalmente potranno salutare e lasciare alle spalle tutte le difficoltà e le preoccupazioni che li hanno accompagnati fino ad ora. Finalmente, dopo mesi di stress e preoccupazioni, due dei 12 segni zodiacali possono prepararsi a lasciare alle spalle le difficoltà e abbandonarsi alla gioia dell'estate. Per loro, agosto sarà un mese di rinascita e felicità, segnato da eventi positivi che permetteranno di dimenticare le tensioni lavorative e i problemi amorosi che hanno caratterizzato l'inizio del 2024. Il cielo di agosto, pieno di fortuna. Il cielo di agosto sarà particolarmente favorevole grazie al passaggio della Luna e alla straordinaria congiunzione di diversi pianeti che si incontreranno verso la fine del mese. Questa combinazione di fattori astrali porterà un periodo di grande fortuna per i due segni privilegiati dal loro scopo, che godranno del sostegno delle stelle. Il mese di agosto si preannuncia infuocato, e non solo per le temperature estive. Alcuni segni zodiacali vivranno un periodo eccezionalmente fortunato, con una serie di eventi positivi che renderanno le loro giornate brillanti e piene di sorprese. Gli esperti di astrologia hanno osservato attentamente i movimenti dei pianeti e hanno previsto una fase particolarmente fortunata per alcuni segni. I segni zodiacali che diranno addio ai loro problemi, prima di svelare quali sono i due segni benedetti dalle stelle, è importante notare che Venere avrà un'influenza particolare su uno di essi, mentre il cielo sarà influenzato dall'allineamento di sei pianeti che si incontreranno alla fine del mese. Questo evento astrologico culminerà il 28 agosto, mentre il 4 agosto sarà segnato dalla luna nuova. Saturno, il pianeta della disciplina e della responsabilità, avrà un ruolo centrale nel cielo di agosto. La notte tra il 20 e il 21 agosto, Saturno sarà coperto dalla luna, creando un'atmosfera di riflessione e consolidamento. Inoltre, la luna nuova del 4 agosto entrerà nel segno del leone, portando fortuna a tutti i nati sotto questo segno di fuoco, che festeggiano il compleanno tra il 23 luglio e il 22 agosto. Durante il mese, assisteremo anche all'allineamento di Mercurio, Marte, Giove, Urano, Nettuno e Saturno. In particolare, Giove entrerà nel segno dei gemelli, portando con sé prosperità, forza e crescita personale. I nati sotto il segno dei gemelli potranno anche contare sull'influenza positiva di Venere, che favorirà incontri romantici inaspettati e momenti indimenticabili con la persona amata. Quindi, saranno i segni dei gemelli e del leone a beneficiare maggiormente delle influenze astrali di agosto 2024. Per loro, questo mese sarà un'opportunità unica per riscoprire la gioia e il successo, lasciandosi alle spalle le difficoltà del passato e abbracciando un futuro luminoso e prospero.